Le province di Rimini, Forlice-Sena, Ravenna e Ferrara si sono unite per la prima volta nella promozione turistica della Romagna. Il progetto prende il nome di Destinazione Romagna e avrà a Rimini la sua sede legale con una cabina di regia con funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per le attività di promo commercializzazione del territorio. La riforma regionale del 2016 ha promosso l'istituzione delle destinazioni turistiche, cioè enti pubblici strumentali, degli enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile che hanno l'obiettivo di realizzare e promuovere prodotti turistici specifici e integrati che connotino e diano identità ad un'area. Questa è l'ultima novità per una parte così importante della nostra economia locale ma oltre ai 31 milioni di presenze e i 7 milioni di arrivi della parte costiera iniziano ad essere soddisfazione anche i dati dell'entroterra romagnolo. I comuni dell'Appennino, in particolare quelli della provincia di Forlì-Cesena, nel 2016 hanno visto un vero e proprio boom di stranieri che sono aumentati del 45,6%. Complessivamente i numeri dello scorso anno dovrebbero portare a un incremento di arrivi pari al 13,6%. Non tutte le località sono però cresciute. Castrocaro Terme ha fatto segnare un meno 3,8% di turisti a fronte per esempio di un ottimo più 7,2% di Bertinoro.